Lo ammazzo, lo scoppio, porco due. Connessione con la cariola, porco due. Zyrtec c'è il modem che sta dentro il criceto che corre dentro la rota, solo che al criceto gli è avvenuto un infarto. Ogni volta che viene un infarto al criceto cambia, quindi si ferma la connessione. Mi taglio le palle. Quando esce il movimento? Esce il... Ecco, più o meno quel giorno lì. Mi faccio la perata in mezzo e ritengo lunghi i lati sul movimento che fa 10 milioni. Ok. Porco dici. Zyrtec c'è il modem che va a carbone, porco due. C'è tipo, non lo so, uno schiavo sottopagato, tipo, trattato de' merda, disidratato, che tipo sta dentro sta cantina e spala il carbone o butta dentro al forno e così il modem di Zyrtec funziona. Però ogni volta che lo schiavo sviene perché è stanco, gli salta la connessione. Eccolo, è tornato. Nel termine la 22 mi faccio i capelli come mi puoi mandare. Fratello, gli butti, fidate. Guarda che la mia wifi va benissimo, testa di cazzo, mi stavano chiamando. Sì, sì, ti chiamano, io ti chiamo, coglione, sì, sì. Addirittura mi ha chiamato un'altra bionda. Ma che cazzo dici, tra? Un'altra bionda, ma così. Vabbè, l'amica mia mi ha chiamato, mi possono chiamare al telefono? Sì, sì, amiche, da quando è che tu hai amiche bionde? Io ci ho sempre avuto amiche. Buffone. Quindi, buffone, buffone, non ci penso uomo. Capito, penso di merda. Tu a me che mi dici che ti chiamano le amiche, a me non è vero, fratello. Buffone, buffone. Non è vero. Buffone, al limite, c'è se te che sei il nipote di Cagno. Porco, vabbè, questo non ho togliere pubblicamente, però c'è da te, hai capito? Cazzo. Buffone, c'è se te, laziale del merda. Ma com'è laziale, no? Laziale, com'è laziale, no? Aspetta un attimo, fratello, qua stanno a volar termini un po' pesanti. Se sei un vero romanista, se sei un vero romanista, adesso giri per casa e trovi qualcosa della Roma. Porco Dio, fratello, sono matto, fratello, sono matto. Mi metto uno la sciarpetta principe ribelle di Pippo Solo, dopodiché, dopo di che, io mi metto, mi metto, a parte la foto del capitano, aspetta, la foto del capitano, porco Dio, aspetta, mi metto questa, la maglietta, da K, da Roma, vedi, questa, questa qua, da K, oh, vedi. E allora ti dirò, preparati 30 euro, perché quando avrei lo stadio, andiamo io, te, quale spende? Andiamo, allora, fratello, andiamo, ma andiamo pure all'acquario, andiamo, te cazzo ti pare, andiamo, non mi frega un cazzo. All'acquario, allo stadio, fra. Io voglio andare all'acquario, ci sarà un acquario, ti dico qua, no? Sempre Forza Roma, fra.